Carina perché non serve, non la fai mai Inquadra un secondo il cazzo di Prama Veramente bello Ciao Allora, ragazzi, siamo qua a Merenda, a Treviglio E abbiamo la decklist del primo classificato In realtà sono arrivato io prima, però fa niente Perché ho mangiato più torte oggi Allora, lo conoscete già perché aveva già toppato una volta Quindi avete già capito di che calibro ha questo giocatore E stiamo parlando di... presentati pure Marco Marco Allora, Marco, oggi cosa ci hai portato? Ho preso una botta in testa e ho portato l'arco Stadley Bellissimo, potresti per favore mostrarci la profile? Sì D'accordo Tu falla vedere, intanto ti inquadro e basta Va bene Sì 3 gear su 2 nightmare e 1 di loro Non vuoi pescarli, quindi 3 gear su Buster Ok, sì 2 di loro, dovresti giocare 1, secondo me Però ho paura di Shadow e ne gioco 2 Poi 1 lo decidi Ah E... 3 Ho poca pantone Sono forti su Tour queste? Eh, su Red Ice Fusion ma non le vedo male È successo solo 3 volte? 3 pot, perché l'ho comprati e devo giocarle Se non ho messo la polpa Giusto, sì, è giusto L'unica carta che mancava è la terza di questa Avevo giocato a 3 Però, boh, questo bug mi sono emozionato, l'ho messo Giusto Questo è per Winda fondamentalmente Poi vabbè, alla fine è sempre forte C'erano tanti Shadow oggi, beccato Porca troia E infatti gioco Return Perché mi mando Galatea così non vi ho accrociato più Giustamente Raga, un altro livello Le trappole sono noiose, non c'è niente di particolare Ah no, non è vero, scherzavo Eldritch 3 di queste perché sono la cosa più forte nel grind Ci ho giocato intorno a... Ah, come si chiama? Ice Dragon Ice Dragon Prison un casino di volte Ok E 3 crescendo, vabbè, 3 installi 3, giocarne 3 E poi ho giocato 3 Ticabu Ma non perché sapevi che c'era Bia Esattamente Ok, l'ho fatto Perfetto No, la verità perché è un local Se no queste robe sarebbero le Ashe E questi sarebbero tipo 3 TT e 3 Strike Perché contro il meta sono più forti Va bene, sì Ci puoi mostrare l'extra o la size Vorrei vedere un attimino il resto prima L'unica carta che è costosa Non è vero Però sono belle Due link 1 Non giocate l'altro perché questo lo puoi fare con il coso di Girsu Sì Questo è fortissimo perché ti prende l'hand E oscurità Diciamo che scartare non fa schifo in Orkull Esatto Poi tanto pesca sempre Nightmare Non ti locca in Dark Però ti locca soltanto in Zombie La cosa scomoda è quella Ah, lui, poveraccio, mi sono dimenticato Americano però Beh, più che altro lui lo gioco tanto perché È un modo per arrivare l'access col più forti Più velocemente Tenendolo a counter attiva Giocate in Magic Sì Lui Che non so perché non ho messo prima loro due Però Sì Non gioco mascherina perché non serve Non la fai mai Possiamo guardare i Girsu che non sono Ultimate Come il nostro carissimo amico Ok, perfetto Vabbè, raga, devo comprarli E uno è anche tedesco Che schifo Ma basta, raga Io guardo le scarpe di Girsu Cioè, hai anche perso la bolla tedesco, coglione Ah, orca troia Se è USP che lo fai molto facile La gente si dimentica che è di Girsu Mixis E poi, vabbè, c'è Super Clue, no? Side Gioco questi due Ok Side velocissimissimissimissima Monkeyboard perché è antispel Due Alpha Sì Dovevano essere TTT Però mi piace di più Alpha Questa e questo Perché il mazzo gioca tre Guts Cioè, io ho buildato il mazzo per beccare sempre Come si chiama? Invo Dolls Questo qua con Guts Il Forzy Wind Poi fai i Super Poli Che è qua Però, vabbè È forte anche contro Control, eccetera Tre Judgment Non guardate la verità Sempre tre Due Antispel E un Order per Invo Ma oggi non Pendolo poteva essere un problema Non l'hanno presenziato Non l'ho mai messo E Twin, vabbè Cosmic li voglio giocare di main Perché sicuro mi metto l'Ancià di side Posso chiedere una cosa Ma quando hai montato il mazzo Cioè, quando sei caduto dalle scale Poi ti sei rialzato Cioè, tu hai deciso di montare questo mazzo incredibile Premate Perché mi sono rialzato Perché No, in verità è caruscio Cioè Come si chiama il link nuovo Quello che scarti, spacchi Che punta anche verso il basso Per far dare le tere Multifaker E niente Quindi report tutto a posto Local tutto a posto Che non era un local Era una merenda In compagnia Sì, abbiamo deciso Di vedere chi ce l'aveva più lungo Con le carte Eh sì Io ovviamente sono arrivato ultime E io ho vinto Vabbè dai ragazzi Un ringraziamento speciale da Lore Che ancora una volta ci delizia Con questo profile Non segnalateci per terrorismo su YouTube No, assolutamente no Intanto c'è Roby Che passa Ah No, i capelli sono rimasti dentro Un salutone da Nico, Lore E da tutti i ragazzi qua incredibili Bella Ciao raga Ciao